Ciao Stefano, grazie per avermi presentata e per avermi invitata a questo evento. In questa occasione intendo presentare il sito attraverso il quale la redazione del Master in giornalismo dell'Alma Mater di Bologna realizza il proprio giornale online. Per creare il nostro quotidiano ogni giorno collaboriamo come se fossimo una squadra. Questa è la home page di Incronaca, Incronaca è il nome della nostra testata e si presenta divisa nella sua parte iniziale per articoli principali. Questo articolo a sinistra è l'articolo principale dove noi mettiamo sempre la notizia più importante del giorno che viene decisa e stabilita in occasione della riunione di redazione che facciamo ogni mattina alle 10 presso la nostra redazione. In quel momento viene quindi stabilito il timone del giornale, ovvero la struttura grafica della nostra home page e quale notizia andrà in quale posizione. Quindi questo articolo che vedete a sinistra, che si chiama Rivederci, era quello che avevamo pubblicato il giorno prima della chiusura del giornale per le festività pasquali ed è l'articolo in evidenza, sotto al quale ci sono due articoli, che sono chiamati appunto gli articoli correlati all'articolo principale, che sono connessi in qualche modo dal punto di vista dell'argomento all'articolo principale. La stessa struttura della home page è presente negli articoli a destra, ovvero l'articolo in evidenza numero 1 e l'articolo in evidenza numero 2. Anche queste sono delle notizie che rispetto alle altre e rispetto alle altre notizie della giornata reputiamo più rilevanti e quindi nel momento della riunione di redazione stabiliamo che queste notizie saranno in evidenza nella parte alta del nostro sito. Anche queste, così come l'articolo principale, hanno due articoli correlati, che sono questi che potete vedere in grassetto e sono sempre articoli che dal punto di vista del contenuto hanno un'attinenza rispetto all'articolo in evidenza. Scorrendo nella home page, l'utente che appunto visita in cronaca troverà gli altri articoli del giorno. Questi articoli sono divisi nelle varie rubriche, possono essere articoli di economia, di politica, di cronaca, di cultura e di spettacolo. Ognuno di questi articoli ha una parola chiave, che è quella che vedete in alto a destra in corrispondenza di ogni immagine, che appunto riporta l'argomento principale contenuto nell'articolo, così come in quello di politica appunto indichiamo che l'argomento chiave sono le elezioni amministrative, in quello di economia si parla di trasporti, eccetera. Gli articoli sono appunto nove, per cui ogni giorno, oltre all'articolo principale, ai due articoli in evidenza, ci sono questi nove articoli. La struttura della home page viene appunto stabilita nella mattinata, quando tutta la redazione, noi 28 allievi del master, ci riuniamo con il nostro tutor del giornale quotidiano e andiamo a stabilire, così come verrà pubblicato online, il giornale nel momento in cui chiudiamo la redazione ogni giorno alle 18. Andando ulteriormente in fondo al sito, ci sono gli altri contenuti a cui noi lavoriamo. Infatti non tutti e 28 gli allievi ogni giorno si occupano del quotidiano, ma abbiamo anche un telegiornale e un canale radio, dove pubblichiamo appunto in seguito a una fase di montaggio le notizie sotto forma di telegiornale o di giornale radio. In più carichiamo anche dei contenuti che possono essere, come vedete, dei podcast sul nostro canale YouTube. Tutti questi portali sono appunto accessibili sempre dalla home page del sito, andando in fondo nella parte che segue agli articoli scritti. Ulteriormente, andando nella parte ancora più in basso della home page, si trova la sezione dedicata al fotoalbum, ovvero una galleria fotografica che contiene dei contenuti grafici, delle immagini su alcuni temi che magari nella settimana reputiamo rilevanti, mostrare nel sito sotto forma di galleria fotografica. A destra, invece, come vedete, carichiamo la versione PDF del nostro giornale quindicinale. Il Master, infatti, oltre a produrre ogni giorno il quotidiano, il telegiornale, il giornale radio, produce ogni due settimane anche una rivista quindicinale che si chiama Quindici. È una rivista di una trentina di pagine dove pubblichiamo per ogni rubrica, quindi per la rubrica di politica, economia, cultura e spettacolo, sport e cronaca, degli articoli che hanno una lunghezza più estesa rispetto agli articoli del quotidiano. Alcuni allievi del Master, a seconda delle nostre turnazioni, si occupano settimanalmente della produzione di questa rivista. Infine, una parte della home page è dedicata ai tweet principali del nostro profilo in cronaca su Twitter. Infine, in fondo, è possibile per l'utente inserire il proprio indirizzo mail, così da ricevere la newsletter, le ultime notizie e gli aggiornamenti sui nostri contenuti. Come dicevo precedentemente, ogni articolo fa riferimento a una rubrica e nella parte alta del sito l'utente può accedere direttamente a una rubrica piuttosto che a un'altra, così da andare a trovare raccolti tutti insieme gli articoli divisi per rubriche. Quindi si può accedere alla sezione delle cronache, della politica, dell'economia, sport, eccetera. Così come potete vedere appunto in questa divisione delle immagini e degli articoli di riferimento. Finora ho appunto mostrato così come il sito appare all'utente che appunto accede al portale online di In Cronaca. Noi invece redattori, giornalisti, allievi del master, abbiamo un nostro profilo con cui accediamo appunto al portale per poter caricare i contenuti. Come potete vedere io appunto accedo con le miei credenziali dell'università e il sito si presenta visivamente simile a come lo vede l'utente visitatore, ma io ho la possibilità appunto attraverso questi tasti di caricare gli articoli, i fotoalbum, i pdf e tutti i vari contenuti. Ad esempio per aggiungere un articolo appunto clicco su aggiungi articolo e mi si apre questa visuale. La prima cosa appunto che ognuno di noi fa quando carica un articolo è inserire subito il titolo dell'articolo e il sommario, ovvero la parte successiva diciamo al titolo di lunghezza maggiore. Tendenzialmente non superiamo mai le due righe per non creare dei sommari troppo lunghi. Una volta inserito il titolo e il sommario procediamo con il salvataggio e in questa ulteriore sezione possiamo caricare il testo dell'articolo in quel riquadro giallo semplicemente facendo copia e incolla dal nostro file word dove abbiamo scritto l'articolo. Possiamo andare a modificare il font, quindi mettere un testo in grassetto, in corsivo, degli elenchi puntati, quindi tutto quello che riguarda la parte grafica del testo e inserire l'immagine. Scegliamo il file, deve essere un file in jpeg, un'immagine che obbligatoriamente per quanto appunto ci dicono i tutor dovrebbe essere una fotografia fatta da noi, altrimenti alla fine del nostro articolo citiamo la fonte da cui abbiamo preso l'immagine ovviamente per rispettare i diritti d'autore appunto del fotografo. Nella parte successiva appunto nel riquadro giallo viene incollato il testo, nella parte sottostante bisogna selezionare l'autore, quindi io andrò a cliccare sul mio nome senza appunto cliccare il nome degli altri autori, i miei compagni di master e inserirò la parola chiave, quella parola di cui vi parlavo prima che indica appunto l'argomento principale dell'articolo. Infine seleziono la rubrica di riferimento a seconda del contenuto del mio articolo e procedo con il salvataggio. Una volta effettuata questa procedura, io da utente appunto autore dell'articolo vado a rintracciare nella rubrica di riferimento, ad esempio in questo caso è un articolo dati e media, il mio articolo che si presenta sotto forma opaca, come potete vedere ancora non definita perché come indicato dalla freccia, questo indica che l'articolo è ancora in bozza. Il mio articolo quindi è stato caricato, è in bozza, ma per essere salvato e quindi essere reso visibile a qualsiasi altro utente che accede al sito, il nostro tutor di riferimento, ovvero quel tutor che ogni giorno ci corregge gli articoli lo deve appunto controllare, correggere, eventualmente io apporto delle modifiche in base alle sue indicazioni e poi l'articolo passerà da essere in bozza ad essere salvato e quindi pubblico. Quindi il tutor di riferimento e nello specifico prima del tutor di riferimento c'è anche una fase di correzione del capo redattore di quel giorno, l'articolo viene appunto corretto e come potete vedere dalla freccia rossa si può passare dallo stato di bozza allo stato pubblica. Infatti non è solo il tutor, come vi dicevo, a correggere, ma ogni giorno noi siamo divisi in base a dei turni che appunto cambiano di settimana in settimana in allievi che si occupano appunto di scrivere gli articoli e allievi che invece sono al desk, come in una vera e propria redazione, due di noi si occupano della fase diciamo più direttiva del giornale di quel giorno, un allievo ha il ruolo di redattore e un allievo il ruolo di capo redattore e loro due che si trovano al desk si occupano appunto di questa fase di correzione prima che il tutor svolga la pubblicazione definitiva. Come vedete una volta che l'articolo è passato allo stato pubblicato in verde, l'articolo è visibile a qualsiasi utente che si connette. La stessa procedura viene svolta anche per caricare il pdf della nostra rivista quindicinale. In questo caso non si tratta di un solo articolo, ma si tratta appunto di un pdf che noi salviamo sotto forma di rivista appunto di 30 pagine, il nostro programma che usiamo è InDesign del pacchetto Adobe per fare tutta l'impaginazione del giornale e inseriamo il titolo del 15, inseriamo il sommario così come per gli articoli del quotidiano e carichiamo il pdf. La procedura è appunto la stessa. E poi andrà a finire appunto come vi ho spiegato all'inizio nella sezione della home page dedicata a tutti i giornali quindicinali che abbiamo pubblicato, ne esce uno ogni due settimane. Se clicchiamo nell'archivio, attraverso, vi faccio vedere questo tasto vedi tutti i supplementi, si può accedere appunto all'archivio. L'archivio del 15 presenta tutti i numeri caricati bisettimanalmente e selezionando la data o inserendo il titolo della rivista si può rintracciare la rivista appunto di riferimento. Allo stesso modo esiste l'archivio appunto degli articoli del giornale del giornale quotidiano, si può inserire o la parola chiave o la data o la rubrica di riferimento e si fa appunto una ricerca filtrata. Ad esempio voglio trovare un articolo che parla delle elezioni inserisco la parola chiave elezioni, vado a specificare che si tratta della sezione di politica e usciranno tutti gli articoli contenenti appunto questi elementi che io ho inserito. Allo stesso modo funziona il caricamento di contenuti multimediali quindi del telegiornale e del giornale radio. Inserisco il titolo, il sommario, il link di YouTube dove noi abbiamo caricato il telegiornale o il giornale radio di quel giorno, procedo al salvataggio. Un'altra parte della home page è dedicata alle ultime ore, delle notizie molto brevi che a seconda di quello che accade in giornata sono rintracciabili proprio nella parte alta del sito, appunto come potete vedere sottolineata in rosso. Quindi quando noi siamo in redazione e stiamo lavorando al timone, al giornale, a tutti gli articoli che saranno pubblicati alle 18 ma esce qualche notizia dell'ultima ora appunto noi la riportiamo per i nostri lettori nella parte alta del giornale inserendo l'ultima ora con il titolo e il testo a riguardo. Allo stesso modo carichiamo anche il fotoalbum con il titolo e il sommario. È presente qui, caricato nella parte finale della home page accanto alla parte relativa alla rivista quindicinale. La home page ha, come vi ho detto inizialmente, una struttura fissa, ovvero l'articolo principale accanto a destra i due articoli in evidenza e sotto i nove articoli. Come facciamo noi a modificare questa struttura? Appunto cliccando sul tasto modifica possiamo accedere a una parte del sito che ci consente di modificare l'ordine dei vari articoli. Inizialmente appunto la modifica della home page consente volendo di andare a cambiare il titolo del nostro giornale, il sommario, ma sono elementi fissi che noi non modifichiamo mai. Invece accedendo alla sezione articoli principali andiamo a caricare i nuovi articoli giorno per giorno inserendo l'articolo in evidenza, i articoli correlati agli articoli in evidenza e invece attraverso gli articoli delle rubriche possiamo andare a inserire giorno per giorno tutti i nuovi articoli, modificare l'ordine in cui vogliamo che si appaiano nella home page attraverso le X a destra possiamo cancellare, inserire altri articoli mentre invece attraverso quei tastini a sinistra possiamo selezionare l'articolo desiderato e spostarlo in ordine di preferenza successivamente o precedentemente a un altro articolo. Infine la home page consente anche di accedere alle nostre pagine social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram dove sono presenti tutti i nostri contenuti caricati giorno per giorno. Quando il lettore apre un articolo, ad esempio questo articolo che io ho scritto il 24 marzo sulla campagna vaccinale in Russia, vedrà sotto al titolo il nome dell'autore e la data. Cliccando sul nome dell'autore si può accedere a tutti gli articoli di quell'autore come vedete quindi cliccando sul mio nome usciranno tutti i 67 articoli che io fino al 21 marzo avevo scritto e si può appunto fare una ricerca specifica appunto in base all'allievo del master di cui si vuole leggere qualche articolo. Un'altra funzione a disposizione dell'utente che si trova a leggere uno specifico articolo è quello di condividerlo sulle nostre pagine social. Sappiamo che la testata del master in giornalismo in cronaca non è una testata così famosa online magari rispetto alle altre grandi testate nazionali o locali e quindi noi allievi del master siamo sempre molto attenti a condividere i nostri articoli sulle nostre pagine social Facebook, Twitter e Instagram perché sappiamo che è molto importante essere presenti online non solo sul nostro sito ma soprattutto appunto sui profili dei social network dove riusciamo a raggiungere molti lettori condividendo i nostri articoli non solo chi ci legge ma anche noi stessi autori abbiamo spesso la possibilità di diffondere e rendere più accessibili i nostri contenuti tante volte infatti ci capita grazie agli hashtag grazie a condivisioni dei nostri articoli di essere poi citati da personaggi o soggetti che abbiamo comunque citato o intervistato o coinvolto nei nostri lavori quindi questa possibilità di condividere i nostri contenuti sul web è molto importante non solo per il lettore ma anche per noi autori si tratta appunto di un sito a nostro parere semplice sia nell'utilizzo che nella lettura è molto efficace questa divisione degli articoli nelle varie sezioni ed è anche molto efficace e funzionante e comodo il fatto di poter rintracciare in base alle parole chiave in base agli autori, in base alle date i vari articoli o contenuti che si vogliono appunto leggere, vedere e ascoltare questo è come funziona il nostro sito siamo tutti ormai molto pratici nell'utilizzarlo è un vero e proprio lavoro di squadra siamo divisi ogni giorno più o meno siamo una decina di allievi a lavorare al quotidiano online e altri otto allievi lavorano alla rivista quindicinale e due e due invece sono divisi nel telegiornale e nella radio per ognuna di queste attività abbiamo un tutor di riferimento quindi un tutor per il quotidiano un tutor per il giornale quindicinale per il telegiornale e per la radio siamo ormai appunto un gruppo molto unito e funzionante stiamo concludendo adesso il nostro secondo anno di master che ci porterà poi alla chiusura del nostro percorso nel prossimo novembre grazie a tutti per l'attenzione